Come sta Lenny? Lenny sta così così Si può avere un altro scotch? Lui è quello che ha parecchio Meglio Un'altra forchetta, vedo residui di cibo qui Che dicono le altre persone di me? La maggiore critica che ti fanno è che Hai troppi problemi a ridere di te stesso Incredibile, sono La persona più divertente che conosco Potevamo sposarci e avere dei figli Sì, tu dici? Ho letto un articolo, dice che voi ragazzi scopate su internet Scusami, è solo che Non mi va di passare da fare solo sesso A fare solo sesso A fare solo sesso Chi è il terzo fare solo sesso? Sei tu, se l'avessimo fatto Cara American Air Caro servizio taxi per animali Caro sindaco Bloomberg Per sapessi a chi scrivere una lettera sulla stupidità del mondo lo farei Invecchiare è una cosa strana Ti guardi e dici Ma che cazzo succede? Lo so La giovinezza è sprecata nei giovani Lui non è come noi È come se un sacco di cose assolutamente normali Per lui sono difficilissime Io ho 41 anni Dovrei saper guidare, cavolo Beh, che fai? Te la prendi con me? Sembra così vulnerabile Vi scuso per quello che mi riguarda Non è chiedermi scusa Beh ma chiedere scusa è difficile Grazie a tutti 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 Grazie a tutti